Una buona notizia per il mondo della cultura che anche esso sta vivendo un momento molto difficile perché è stato donato al Comune della Spezia un importante cimeglio appartenuto alla Contessa di Castiglione che sarà poi reso fruibile a tutta la cittadinanza. Sì, un ringraziamento particolare a questa nostra concittadina che ci ha donato un parasole molto bello, molto importante della Contessa di Castiglione, per la quale noi stiamo cercando di recuperare, ristorare un vecchio salotto suo e non solo altri beni che sono stati appartenuti dalla Contessa. Questo per poi esporli prima nella palestra delle arti e poi vorremmo dedicare uno spazio presso la nostra biblioteca Mazzini proprio per cercare di valorizzare la figura, la storia e anche il ruolo sociale che questa persona ha avuto nella nostra storia. L'altra cosa importante che stiamo facendo per quanto riguarda la cultura è la preparazione e sarà inaugurata appena l'emergenza Covid e ce lo permetterà e quindi appena passeremo in zona gialla in questo caso una mostra permanente dei quadri di Agostino Fossati dove la spezia del metà 1800 verrà messa a disposizione nella sua bellezza a tutti i nostri concittadini. È un po' il selfie del 1800, Agostino Fossati, vedremo la spezia com'era e ce la potremo godere sinceramente perché sarà una mostra permanente che rimarrà a disposizione di tutti i nostri concittadini e dei turisti. Quindi noi siamo pronti anche per partire con, diciamo così, dare queste pillole di storia e queste pillole che potrebbero essere comunque un'occasione per far venire qua i nostri concittadini, i nostri turisti liguri e nazionali. In questo momento difficile è un primo passo ma è un segnale importante.